Bentornato, Gabriele Gori, campione. Questo è il cartello apposto all'ingresso dello stadio Nardini, con scritte blu su sfondo giallo e non poteva essere altrimenti, che ha salutato il ritorno del fantasista Via Regino dopo il trionfo con la nazionale a campionati europei di beach soccer svoltisi ad Alghero. Gori, da queste parti, era già un idolo, un calciatore e un ragazzo apprezzatissimo per le sue doti tecniche ma anche umane. Al microfono di Abramo Rossi evidenzia tutta la sua gioia che sprizza da tutti i pori, con un complimento anche speciale da parte di un grande campione e quelli dell'amministrazione comunale di Castelnuovo. Ci tenevamo anche noi, era tanto che l'Italia di beach soccer non riusciva a ottenere un dato importante come questo e sono contento che sia arrivato in questo momento e di averlo vissuto da protagonista. Oggi praticamente ho avuto anche i complimenti da parte di Marchisio, quindi questa è una soddisfazione per me immensa e per tutti i miei compagni. Ovviamente per tutta l'amministrazione è una grande soddisfazione e veramente è un motivo di orgoglio che un campione europeo militi nelle fila della squadra cittadina. Quindi speriamo che questo grande risultato a livello individuale sia poi di buon ospicio anche per la stagione calcistica dell'US Castelnuovo. Intanto, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, sconfitta mercoledì sera per 3-1 a Camaiore dopo lo 0-0 del match di andata, il Castelnuovo prepara la prima trasferta stagionale di campionato al Magona di Piombino. Chissà che lo stesso Gori non possa giocare uno scampolo di partita.